Con la prima nevicata che finalmente ha imbiancato le cime del Gran Sasso e quelle abbondanti annunciate per i prossimi giorni, iniziano a stringersi i tempi per l'avvio della stagione sciistica. Mentre il sindaco Cialente annuncia l'apertura degli impianti per l'8 dicembre, giorno che canonicamente segna l'avvio della stagione nelle principali stazioni invernali, restano ancora diversi i punti interrogativi. Il primo è quello relativo alla gestione dello storico hotel e del bar annesso, oltre a quello del rifugio sulle piste. Stando a quanto appreso sarebbero due le società che avrebbero risposto al bando con cui Comune e Centro Turistico del Gran Sasso intendono affidare le strutture fino al prossimo giugno. Pur ammettendo che l'affidamento avvenga in tempi record, è tutto da chiarire come il nuovo gestore possa insediarsi, ripulire le strutture che oltre alla perdurante fatiscenza sono in stato di abbandono da mesi, rifornirsi di gasolio e provviste per l'inverno. Per il sindaco, almeno per il gasolio, non c'è problema, visto che sarebbe stato trasportato nei giorni scorsi, mentre il presidente della scuola sci si dice preoccupato dal momento che, con questa incertezza, non è stato possibile programmare nulla per la stagione ormai alle porte, così come sono pari a zero le prenotazioni per l'8 dicembre. Per le due soggiovie nei giorni scorsi sono stati stanziati oltre 100.000 euro, destinati alla manutenzione e dal collaudo degli impianti, e almeno da quel punto di vista, gli amanti della neve sperano che non ci siano intoppi, anche se, aggiungiamo noi, c'è da curarsi che vengono garantiti anche i servizi. Andare sulle piste senza potersi fermare per un caffè o una semplice sosta per bisogni fisiologici non è pensabile. Nessuna novità, infine, per l'avviso esplorativo per la privatizzazione del bacino sciistico. L'ennesimo punto interrogativo sul futuro di un comprensorio da anni in cerca di sviluppo e di scatto.